ciao a tutti da vittorio le feste sono passate e tempo di rifocalizzarsi su quello che non va in casa lazio perché molti di voi dicono serve un difensore serve un esterno serve un attaccante eccetera secondo me il problema è un altro ciao a tutti da vittorio mi raccomando se sei un tifoso da lazio questo canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra della capitale quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella e se ti piacciono i miei video ovviamente metti like molti di voi dicono che la lazio deve intervenire sul mercato serve un difensore serve un esterno servono tanti giocatori valutazioni secondo me tutte molto valide e farò altri video al riguardo ma il problema principale di questa lazio è un altro contro un minal la lazio ha perso per tre gol evitabili due su calci d'angoli con marcature rivedibili il terzo una scivolata folle di patrick poi si può discutere se rigore o no ma un difensore di livello non fa mai un'entrata del genere ecco il problema della lazio è che questi errori non sono successi solo una volta contro il milan ma quasi tutti i gol subiti dalla lazio nascono da disattenzioni da errori individuali è un problema di testa e l'abbiamo visto benissimo contro il milan i rossoneri erano inferiori hanno sofferto per 70 minuti hanno portato a casa tre punti perché perché hanno combattuto su ogni pallone come se fosse l'ultimo pallone di una finale champions mentre i giocatori della lazio molto spesso hanno giocato come se fosse un amichevole fra amici la lazio ha perso quella cattiveria che lo scorso anno invece ha caratterizzato il gruppo lo scorso anno la lazio ve lo ricorderete la vittoria contro caiari contro la juventus e c'è battaglie che la lazio portava sempre a casa quest'anno spesso succede che la battaglia la lazio la perde e la perde per disattenzioni perché maruzic che fa segnare rebic che non segnava da luglio è un errore perché lo fa saltare senza nessun problema luiz alberto che fa saltare teore nandez poi la si potrebbe dire ma perché lo marcava luiz alberto eccetera però sono tutte disattenzioni là non è che ha sbagliato un difensore o comunque con un difensore più forte non segnavano perché il difensore ne può marcare uno mica ne può marcare mille rebic era di maruzic in quel caso ha sbagliato maruzic nell'altro caso ha sbagliato padre nell'altro ha sbagliato luis alberto altre volte ha sbagliato a cervi l'altra volta ha sbagliato rato insomma è sempre un giocatore diverso che sbaglia ed è sempre un errore individuale non è che la squadra avversaria ha fatto un gol stratosferico no molto spesso è la lazio che regala il gol anche vero dall'altra parte molto spesso i giocatori della lazio vogliono entrare in porta col pallone anziché provare a segnare il prima possibile è un problema di mentalità è un problema di testa questa lazio non è concentrata come era lo scorso anno questa lazio non è determinata come era lo scorso anno il milan è primo in classifica senza essere la squadra più forte però è convinta combatte lotta non si demoralizza mai la lazio invece si demoralizza non combatte non lotta se non in altre occasioni pensiamo alla partita contro la juventus la la lazio ha risposto la partita contro l'inter la ha risposto però per tutte queste partite dove la lazio ha risposto c'è la partita contro sampdoria non giocata la partita contro uldinese non giocata la partita contro benevento insomma sono tanti è un problema di testa bisogna intervenire sbaglianzaghi non lo so sicuramente i giocatori in campo non stanno dando tutto può essere anche un problema di assofazione no ormai tanti anni a roma tanti anni con lo stesso allenatore tanti anni nello stesso ambiente i giocatori non riescono ad avere quella stessa motivazione che magari avevano prima non ne sono convinto di questa di causa perché secondo me se sei un campione vuoi vincere sempre anche se giochi vent'anni nella stessa squadra ho paura che mentalmente questa squadra sia un po cotta ho paura che mentalmente questi giocatori abbiano fatto un anno stato sferico ma non siano così convinti così bravi a concentrarsi ogni volta è questo il vero problema se la lazio riuscisse a giocare bene convinta concentrata a mio avviso i risultati arriverebbero la classifica sarebbe molto più bella e tu che ne dici iscriviti ciao alla prossima